Amici di Globus Television, buon pomeriggio, puntualissimi alle 15, questa ennesima puntata di Calcionate Flash, dallo studio per stare con voi una mezz'ora abbondante, Vincenzo della Corte, salvo Russo, salvo buon pomeriggio. Buon pomeriggio Vincenzo, buon pomeriggio ai nostri amici che ci seguono assiduamente ormai, ormai lo sapete anche come interagire con noi attraverso il numero WhatsApp che state già vedendo in sovraimpressione 340 051 1286 o attraverso la nostra pagina ufficiale sui social, su Facebook che Calcionate e commenti in casa rossa-azzura oppure seguiteci attraverso i canali televisivi Vincenzo. Certo, assolutamente, come sempre è utile ricordarli, 15 e 18 del digitale terrestre per quanto riguardano le frequenze Sicilia, quindi come sempre vi raccomandiamo il 15, quello di Telerent, la Gold 7 che praticamente con il tasto verde del telecomando vi assicura un'immediata visione di Globus Television, naturalmente parliamo di Smart TV, stessa tecnologia per il canale 268 e qualità della frequenza nazionale, poi il sito istituzionale www.globusmagazine.it slash video, le piattaforme streaming Twitch e TV Dream di Facebook, ho già parlato salvo, le piattaforme più fresche arrivate quest'anno nella programmazione di Globus, quindi local TV e Cyber TV, infine come non dimenticarsi, come non ricordare, scusate, l'app per tutte le tecnologie di Smart Work, quindi di Smart Phone, quindi Globus Network Italia e siete collegati sia con la programmazione televisiva che quella radiofonica che quindi potrete apprezzare assolutamente. Allora, mezz'ora, mezz'ora a partire da ora. La tinta rossa azzurra è dedicata alla Catania, ai rumors di mercato, alla seconda settimana di attività, perché con oggi inizia la seconda attività di ritiro in quella di Assisi e poi dicevamo appunto i rumors di mercato ed altre spigolature. Iniziamo proprio da Assisi. Possiamo cominciare gentilmente, Catania FC ha messo a disposizione una sorta di highlight, un pacchetto ben rifinito della goleata di ieri, sette gol contro la formazione dell'Assisi. Io direi che possiamo proprio andarla a vedere. Ecco, le sono le immagini, magari le commentiamo. C'è una piccola fase di preparazione, già schierati a centro campo. La novità, se vogliamo, è proprio il modulo scelto per questa sgambatura, per questo primo test, per questo allenamento. Vincenzo, quello che ha scelto Toscano, ha schierato il 3-4-2-1. E nel dettaglio possiamo vedere come è stato schierato, nel frattempo scorrono le immagini, vediamo anche le prime azioni e poi vedremo i sette gol in sequenza. Sì, magari ce li godiamo perché saranno rapidamente. Comincia Boa con un assist, non mi ricordo di chi, ma forse di D'Andrea proprio. Gol di testa, questa è un'altra azione del Catania. Poi qui c'è, dovrebbe essere il gol di Castellini, non nuovo naturalmente questi inserimenti. Questo direttamente su corner. Sì, da calcio d'angolo. E poi arriva anche, dovrebbe arrivare il terzo gol, eccolo qua. Uno dei due gol, perché Andrea ha firmato la doppietta, si è presentato così. Dell'attesissimo Filippo D'Andrea, no? Sì, dell'attesissimo Filippo D'Andrea. Che a fine settimana ha normalizzato la sua posizione contrattuale. Sì, ci avevamo lasciati la scorsa settimana con un piccolissimo dubbio, ma noi avevamo detto che si trattava solo di questioni burocratiche, evidentemente c'era ancora qualcosa da sistemare. E questo è Luperini, anche lui si presenta. Altro, questo è proprio l'ultimissimo acquisto del Catania, no Luperini? L'ultimo acquisto del Catania, magari poi ne parleremo, vedremo anche oggi delle schede. Infatti. Nella ripresa, altri tre gol firmati appunto dal Catania, questa è un'azione ancora importante. Insomma, è chiaro che si tratta di un primo test match, no? Sì, da quello che stiamo vedendo vediamo azioni praticamente da fermo, si può dire. Non è che ci siano galoppate sulle fasce o quant'altro. Comunque, buona predisposizione della squadra lì davanti, si cercano un po' tutti. e cercano soprattutto la profondità. Qua è una traversa. Questa è la traversa e qui dovrebbe arrivare un altro gol, eccolo qui, quello di Carpani. Anche lui si presenta in questo modo. Vedete, sono tutte azioni un po' alla mano, no? Che arrivano sin dentro l'area avversaria. Questo è il secondo gol, il 6-0, il secondo gol di Filippo D'Andrea. E poi, questo dopo... Anche un palo. Sì, dopo il palo... Il buon Popovic che è dato, partente per Paternò. E comunque lì il tiro era stato ancora di D'Andrea, vedete. Poi è stato comunque lesto e bravo Popovic a ribadire in rete. Popovic che era entrato nella ripresa, se non ricordo male. Questo, sì, perché hanno praticamente giocato tutti, tranne il portiere in prova, sì. Il giovane portiere Luke Zemis che non ha avuto spazio. Peraltro c'è da dire che altri giocatori non li abbiamo visti in questo primo test match perché sono rimasti... Perché pare che ci sia una sorta di sfortuna che ingomba su Catania. Anche che abbiamo preso gente tutta valida. C'è ancora l'onda lunga. C'è una lista lunghissima, diciamo, di persone che vanno dal portiere, da Moris. Firmato per un trauma distortivo. Poi fermi anche Anastasio, Celli, Silvestri e Tirelli perché con tutte le prese con programmi personalizzati... Pianche Verna e Cianci che hanno dato loro, diciamo, cure il loco. Vabbè, sarà attento. Vabbè, è ovvio. L'interessante è che sulla squadra che è scesa ieri in campo, 5 erano le persone note, mentre ben 6 erano gli innesti in questa formazione. Quindi ci ha ricordato un po' la rivoluzione copernicana di gennaio. Prende sono scese questi, fra tutti gli acquisti, ben 6 si sono presentati da titolare e hanno contribuito a questa titolare. Tra i titolari è chiaro, no? Lo possiamo vedere un po' la formazione, così ne parliamo velocemente. Importa Furlan, ma nel secondo tempo è tra Betters. E poi questa trio di difensori centrali, di cui due freschi freschi perché sono Ierardi e Di Gennaro, mentre poi il terzo è inevitabilmente il buon Quaini, che ormai riconosciamo perfettamente nel ruolo. E poi gli esterni. La linea 4, con i due che noi ricordiamo terzini, ma in realtà si danno molto da fare nella propulsione, che sono Bua e Castellini. Mentre lì davanti... All'interno della mediana abbiamo Sturaro e Di Tacchio. Sturaro che ha fatto tutti i 70 minuti. Su Sturaro appunto poi accentriamo un po' l'attenzione, anche per questo, no? Perché ha giocato praticamente tutti i 70 minuti. Questo indice del fatto che magari l'atleta ha raggiunto uno standard... Un livello, diciamo, accettabile di... Accettabile di condizioni. Di resistenza, sì. Poi lì davanti Luperini e Carpani con D'Andrea. Popovic è entrato appunto nella ripresa. È comunque un buon allenamento. Tutto sommato era quello che forse molti si aspettavano. E anche il mister se lo aspettava. Andiamo a sentire cosa ha detto Mimmo Toscano alla fine di questo primo test match. La prima settimana di ritiro del Catania si conclude con l'allenamento congiunto con l'Assisi. Anzitutto, mister Toscano, un'analisi di questi primi giorni nel ritiro Umbro. Ma si è fatto una buona settimana. Vedo grande disponibilità da parte dei ragazzi. Si sta facendo fatica. Anche oggi hanno fatto le poche cose che abbiamo provate durante questa settimana, ma l'hanno fatto con concentrazione, con attenzione e con impegno, nonostante i carichi di lavoro fossero pesanti. C'è tanto ancora da lavorare, c'è tanto ancora da lavorare. Partiamo da una base della passata stagione dove bisogna alzare il livello per poter colmare il gap con le squadre competitive e diventare una squadra che compiederà fino all'ultima giornata con le altre. Però vedo un buon atteggiamento che dobbiamo mantenere e migliorare giorno dopo giorno. Chiaramente i gol contano in modo relativo, visto che si è trattato appunto di un allenamento congiunto, però il fatto che siano andati a segno sei giocatori diversi vuol dire già qualcosa di positivo? Quello sì, perché stiamo lavorando su tutto questo aspetto, di coinvolgere tutti i calciatori di movimento nelle due fasi, sia nella fase di possesso che nella fase di non possesso. si sono proposti bene soprattutto i difensori destri e il difensore sinistro, gli esterni sono andati al cross, sono andati anche alla conclusione, gli attaccanti hanno avuto tante situazioni da poter sfruttare meglio, però l'atteggiamento inizia ad essere quello giusto. Dobbiamo andare da qui in avanti e migliorare giorno dopo giorno. La prima cosa che ho detto ai ragazzi qui in ritiro è che voglio una squadra che cerca sempre di migliorare e crescere sotto ogni punto di vista, come persona, come calciatore e come gruppo soprattutto, perché quello che costruisci qua te lo ritroverai durante il campionato. E queste sono le parole, le prime parole di Mimmo Toscano, raccolte naturalmente dall'ufficio stampa del Catania FC, Angelo Scaltriti, intervista disponibile sul sito ufficiale appunto del Catania FC. Allora, su Toscano un'osservazione importante, quella che mi è piaciuta molto sul fatto dei tanti che vanno in gol. Pare aver ripreso un po' il nocciolo di una situazione che era stato fin troppo trascurato nella scorsa stagione, perché non è che tutti ci provassero a tirare e forse probabilmente sta arrivando una mentalità nuova che è necessaria perché le partite diventano partite fruttuose in ogni caso. Sì, è anche vero che poi questi sono i primi movimenti con il pallone. Certo, parlavo solo dell'assunto, del parlarne, del dire. Poi i fatti li vedremo. Il campo comunque ha fatto vedere che al di là del peso specifico dell'avversario, naturalmente, però è anche vero che la condizione della squadra dal punto di vista quantomeno mentale nella proposizione del gioco, nel cercare il fraseggio anche corto, sono segnali importanti. È stato il limite della scorsa stagione, non solo il fatto di avere lì davanti un deficit importante, ma anche il fatto che non tutti ci tentavano neanche da fuori. Era una grande spada di Damocle questa qua, è vero. Allora, vogliamo andare avanti con qualche scheda delle ottime grafiche? Sì, chiudiamo il discorso su quello che ormai viene definito allenamento congiunto. Sì, e abbiamo una scheda anche a questo riguardo. I nostri tempi erano amichevoli, insomma. No, ora per risparmiare soldini si chiamano allenamenti. Allora, l'altro allenamento congiunto. Abbiamo la scheda, era messa un po' in coda, però se Gaetano ce la mette in anticipiamo, dovrebbe essere l'ultima scheda che abbiamo programmato, Gaetano. Quella delle prossime gare. Eccola qui. Perfetto. Queste sono quelle ufficiali e anche, dicevamo, riassume anche quella di ieri che si è già chiusa. Poi sabato 27, sempre alle 18, si andrà a sfidare il Monte Granaro, formazione di eccellenza. Perfetto. Poi si prosegue con la sfida di mercoledì. Infra settimanale, sì. A tre giorni dalla Coppa. L'ultimo di questo testamento, di questi amichevoli, con il Pineto. Dove incontriamo una squadra che l'anno scorso Max Ligari ne aveva fatto quasi un mantra, che la voleva incontrare a tutti i costi nei free-off. Questo è un test importante. Questo è importante. Sicuramente di cambio di strategia, che lo scorso anno non ci sono state, non c'è stata forse la disponibilità o il tempo necessario per disputare amichevoli. L'unica amichevole o allenamento congiunto, diciamo, a Ragalna, no? Fu prima con il Ragusa, che è la formazione di Serie D, naturalmente. Però poi non ci fu altro, sennò piccole cose. Diciamo che questi test sono importanti, al di là del risultato che conta fino a un certo punto è relativo, no? Però sono importanti perché ti misuri, cominci a misurarti con squadre che in qualche modo hanno un tasso tecnico e un livello superiore rispetto a formazioni che militano in categorie inferiori. Spesso non è detto perché potresti anche rimediare la figuraccia. Ovvio, ovvio, non c'è nulla di scritto, assolutamente. Allora andiamo con le prime schede, andiamo con l'ultima operazione. L'avevamo detto durante il commento della gara, degli highlights della gara, Gabriele Luperini, salvo, si è chiusa questa operazione. Si è chiusa, hai detto bene, perché è stato uno di quei nomi che da subito sono stati messi in lista da Radiomercato, ma poi ufficiosamente e poi ufficialmente, non se ne è fatto mistero. Diciamo che fino a questo momento la campagna di rafforzamento del Catania, per quanto riguarda obiettivi che sono stati dichiarati in qualche modo, cioè liste che appunto erano ufficiose, poi sono diventate ufficiali. Questo significa che sotto traccia si è lavorato bene, qualche colpo è sfumato, perché naturalmente c'è stato l'interesse di altre società. Teniamo sempre in grande considerazione poi anche la volontà di procuratori e giocatori che magari preferiscono altre piazze. Nel caso di Luperini è chiaro che lo stesso Luperini ha dichiarato che è stato convinto assolutamente dal progetto che gli è stato proposto. Ieri ha giocato leggermente più avanzato, leggermente più in una fase offensiva rispetto a quella sua solida che è di centrocampo, più o meno esterno di centrocampo o centrale di centrocampo. Vediamo qualche messaggio prima di passare invece ai rumor sui tanti attaccanti che girano nell'orbita Catania. Allora saluto Antonio Scuderi, grazie che ci auguro a buona trasmissione, sono vere le voci riguardo Gomez e Torregrossa? Sì, sono vere come tante altre, ora ne parleremo. Max Licari, Vicenzo e Salvo, top players, grazie al grande Max. Se non è top lui, noi chi siamo? Noi non siamo nessuno, lui è il top. Bisogna vedere qual è il ruolo. Francesco Lippo ci dà il buon pomeriggio e anche al tutto popolo. Rosso Azzurro, per Merola siamo quasi in chiusura, parleremo anche di Merola. E ancora Francesco Lippo, abbonamenti, presentazioni in settimana e noi ce lo chiediamo pure. Luca Laspina per Torregrossa dice speriamo di no, in risposta alla domanda di prima. Francesco Lippo ancora mercato in uscita, Welbeck al Taranto si deve smaltire chi non fa parte del progetto. Vamos, le parole di Mister Toscano già sono molta garanzia e tanta roba. Ancora Andrea Pappalardo che salutiamo, tanti gol in una squadra di prima categoria, sono dei bravi giocatori. Ma non si possono dare giudizi, ma certamente ci mancherebbe. Il Pineto, testo importante, come ha detto Salvo giustamente. Luca Laspina, Que, Gabriele. E non lo so di chi parliamo, l'abbiamo detto noi, non penso. Magari ci precisi meglio. Possibile che Chiricò, ci dice Massimo Gamba, non possa giocare in una posizione diversa con Toscano? Perché vendono ad avversari diretti per la promozione in Serie B? Questa è una domanda interessante. Luca Laspina, ma non è nemmeno in foto lui, mi pare. Ma non so di chi stiano parlando fra questo Gabriele, non è in foto nemmeno lui. Dillo meglio, per favore. Luperini si crama a Gabriele? Ah, era questa la domanda? Certo, sì. Di lui parlavamo, ho capito. Ho capito. Siamo già il tu, noi ancora eravamo con il Perino. Ancora ci davamo del lei, ci davamo del lei. Ancora non c'è questa confidenza. Poi nelle tante sgroppate per l'Italia, poi Salvo vedrà come portarsi. Allora, Lascano e Capomaggio. Capomaggio la pista è definitivamente abbandonata per scelta dello stesso Capomaggio. Lascano vedremo che è ancora in trattativa. Andrea Pappalardo, che saluto ancora. E questa è la prima sfilza di messaggi che abbiamo preferito esaudire tutti per il rischio che poi magari non ci arriviamo e mi dispiace. Andiamo avanti con le prossime schermate, Salvo. Sì, adesso vediamo cosa c'è. Sì, dovremmo avere tutta la sfilza di... Intanto dovremmo avere, a partire da Carrozza, ecco qua, Simone Carrozza. Abbiamo tutta la sfilza di attaccanti, punte centrali, esterni, alti, diciamo, ecco, tutto quello che il buon Faggiano sta cercando di razziare, per usare un termine favoristico. Altro nome che è stato inserito in questa ipotetica lista, insomma, da tempo e che si sta seguendo. L'abbiamo detto anche la settimana scorsa. No, giocatore che Toscano conosce molto bene, da lui apprezzatissimo sicuramente. Staremo a vedere, staremo a vedere. Andiamo a Gomez, l'altro rumor di cui ci accennava il nostro amico Antonio Scuderi. Allora, su Gomez vediamo un po', perché ci sono delle notizie che arrivano e che potrebbero in qualche modo... Eccolo qua, eccolo qua, Guido Gomez si è parlato con insistenza in queste ultime ore di un probabile arrivo del trentenne attaccante del Crotone, che però è seguito anche da tante altre squadre, non solo di categoria. Questo potrebbe essere un ulteriore colpo. Diciamo che il Catania è sulle tracce. Naturalmente su questa pista, dicevamo appunto, c'è forte l'interessamento, per esempio, della spalla, ma non solo. Quindi, trattativa in corso, chiaro che il Catania giocherà le sue carte. Sempre gente che esce fuori da buoni progetti a medio-lungo termine, perché anche lui, tre anni con la Triestina, sempre gente che ha fatto la fortuna di quella squadra, quindi pezzi importanti sempre nel taccuino di Fagiano, assolutamente. Prossimo nominativo, ne abbiamo già parlato la settimana scorsa, giocando sul nome Facundo, diciamo Facundo che arriva, Facundo che viene, Facundo Lestano ancora, è in trattativa. Quindi anche qui una punta centrale, Salvo. Sì. Beh, diciamo che l'obiettivo del Catania è quello, in questo momento, dopo gli interventi fatti in difesa da centrocampo, è chiaro che non si lascia nulla di intentato, ma c'è da consolidare il reparto offensivo. Infatti. Sono già arrivati degli innesti importanti, è chiaro che manca ancora qualcosa. Tutto questo però non può prescindere da un altro ragionamento, cioè quello del smaltire, sfoltire la rosa a disposizione. È vero, è vero, è vero, assolutamente sì. Nel frattempo Costantino potrebbe essere una pedina importante perché sulle tracce di Costantino c'è il Taranto. Taranto che ha un discorso aperto, società Taranto con il Catania, su tanti nomi. Rapisarda, Welbeck. Rapisarda, Welbeck, lo stesso Costantino e magari qualche interscambio o magari qualche pedina poi da girare eventualmente ad altre società interessate che potrebbero entrare in un gioco. Sì, intanto prelevata e poi girata ad altri. Quindi il Taranto ha comunque messo e ha centrato l'attenzione almeno su tre giocatori del Catania. Magari poi nelle ultime settimane di calcio mercato forse qualcosa in più potremmo saperla. Comunque sta di fatto che appunto Costantino è uno degli obiettivi della società Ioni. Questa è proprio una delle ultime novità, proprio ultimissima e fresca. Andiamo avanti con Merola, se non ricordo male. Sì, eccolo qua. Ancora un attaccante di grido, un attaccante importantissimo, anche qui Pescara. Peraltro questo è un attaccante che può dare un contributo notevole perché può giocare anche da esterno, anche da seconda punta. Quindi potrebbe essere sul piatto della bilancia, potrebbe raggiungere un valore cospicuo l'adattabilità e la possibilità di un giocatore che può fare da giolli d'attacco. Quindi Merola potrebbe essere uno di quei giocatori che la società sta attenzionando in maniera particolare. E poi abbiamo Ravasio, questo è un nome diciamo discretamente nuovo. Ravasio, anche esso parliamo sempre di una punta, di una punta centrale o addirittura di una sottopunta. In questo caso ci spostiamo dalla Campania a Lombardia perché Ravasio è di Bergamo, molto giovane, giovane discretamente rispetto agli altri perché è un 98 contro i 94-95 che abbiamo normalmente visto. Quindi abbiamo anche questa possibilità. Parliamo sempre di punta centrale. Di proprietà della Lucchese in prestito in questa stagione chiusa al Sorrento. Ci sono altri nomi? Un altro nome ancora? Io ce l'ho. Tu ce l'hai pure? Io ce l'ho pure. E' un siciliano? No. Argentino, siciliano, di Caltanissetta? Uno che non volevano? Ma vedi. Torregrossa? No, io ne ho un altro. Tu vai con Torregrossa. Noi Torregrossa ce l'abbiamo. Vai con Torregrossa, eccolo qua. Torregrossa carriera immensa, no? Carriera immensa. Soprattutto al Brescia, quel Brescia che fece tanto bene quando dalla Serie B fu promosso in Serie A. Quindi sì, nato a Caltanissetta e origine, scusate, ho sbagliato, prima ho detto argentina, sono italo-venezuelana. Eccolo lì. Giustamente. Quindi anche qui doppia funzione. Può giocare esterno di sinistro, alto, può giocare punta centrale. Quindi un personaggio abbastanza gollifero in passato, voglio dire. Non so il perché, magari poi vediamo se l'amico ci darà qualche altro feedback sul suo disappunto nel parlare di Torregrossa, che non lo voleva, ci ha detto chiaramente. Vediamo se ci fa capire il perché. Andiamo all'altro tuo nominativo. No, torniamo indietro, nel senso che come reparto andiamo verso la difesa e qui sì, di origine argentina. Perché parliamo di Diegos Mattias Casasola, che era uno di quei giocatori già da tempo attenzionati. Poi la pista si era un po' raffreddata, sembra nelle ultime ore siano tornati i colloqui stretti tra la dirigenza del Catania e quella della Ternana. C'è un filo diretto con la società Umbra, per cui potrebbe Casasola arrivare in qualche modo, staremo a vedere. Magari no, nel senso che… Hai detto che era un esterno di difesa? Sì, è un terzino. Basso, basso, un esterno basso, argentino. Quindi noi in questo momento abbiamo in difesa otto, se non ricordo male, sette di loro. Allora, è presto detto. Abbiamo tre, diciamo quattro centrali di difesa perché ci sarebbe anche Castellini adattabile perfettamente. Allora diciamo che nella lista in questo momento ce ne sono parecchio. Se togliamo naturalmente i vari Monaco, Curato… Sì, Curato sempre in trattativa ci sarebbe il Pescara sulle sue tracce. Quindi potrebbe essere presto in uscita. Così come c'è da definire la posizione di Silvestri, oltre a quella di Monaco e quella di Rapisarda che abbiamo detto… E' in procinto dell'interesse del Taranto. Su Celli per adesso… Su Celli non si è pronunciato, anche se nelle primissime battute era gira da voce di un interesse di Toscano nei confronti del ragazzo. Vediamo poi se sarà confermato. Staremo a vedere, c'è tempo. Non era disponibile, ieri lo abbiamo detto, era fra i non disponibili. Per quanto riguarda i centrocampisti, anche qua folta la truppa… Con gente che certamente entra via. Sì, assolutamente. Certo, assolutamente sì. Però qui c'è da valutare, e lo stanno facendo i dirigenti, lo sta facendo Toscano e lo sta facendo lo stesso Faggiano, la situazione, la posizione di Sturaro, che ieri ha giocato 70 minuti. Ieri ha giocato nel suo ruolo, in fondo, perché ha fatto il mediano, ha fatto la mezzala, voglio dire, in quattro. Si è fatto vedere, in qualche modo. Quindi ci sono segnali da questo punto di vista. Staremo a vedere poi come si tradurranno se Sturaro… Come dicevamo, ha giocato 70 minuti, ma è chiaro che ieri nessuno ti veniva a mordere le caviglie, è chiaro. No, no, è chiaro, è chiaro. Però anche lì… Anche reggere al peso delle pedate degli avversari, questa è la resistenza, chiaramente. Qui, oltre a Welbeck e… Zammarini, Zanellato, ce ne sono tanti, Procinto di… Teio, che però pare, invece, possa… Non è stato… non abbiamo saputo nulla, né fra i convocati, né fra non vocati per motivazioni fisiche. Io credo che Buà e Teio siano pedine che… Che hanno mercato? Hanno mercato, ma che possono, in qualche modo, invece, interessare Toscano. Interessare il mister, va bene. Per quanto riguarda gli attaccanti, Marsura è chiaro che non farà parte… No, è Costantino, l'abbiamo detto prima, di Carmine, l'abbiamo detto. Sì, sì, è chiaro. E poi dobbiamo aggiungere Ladinetti, fra i centrocampisti che è in uscita perché non è stato nemmeno convocato e quindi… E qui, invece, anche De Luca, tu dici… De Luca e Popovic, abbiamo detto, probabilmente abbandonerà il professionismo per andare in Serie D al Paternò, no? In effetti. E poi però qui ci sono due questioni spinose, spinose per Toscano, eventualmente, che sono le posizioni di Cicerelli e Peralta. Cicerelli e Peralta che abbiamo visto bene in lunghi tratti della stagione, ricordiamo che sono arrivati nella seconda parte della stagione, hanno fatto benissimo tutte e due agli inizi, poi si sono perduti un po', l'uno per i problemi fisici, l'altro perché giocava fuori il ruolo, un po' ne abbiamo perso le tracce nella parte finale della stagione. Allora, altri due commenti? Ci vuole poco, due commenti velocemente così è giusto che diamo spazio ai nostri amici che ci seguono numerosi. Assolutamente. Vediamo un po', andiamo… eravamo arrivati a Pappalardo, allora Luca Laspina, io Gabriele Luperini e Simone Carozza non li conosco, ma scherza, quindi Paolo Di Giorgi mi saluta, grazie. Giravoce di Roberto Inclesi, avete notizie in merito di Alfio Alfredo Giuffrida che ce lo domanda? No, nel senso che sono nomi che girano ma di concreto, noi sono 4-5 settimane che siamo in trasmissione e a noi piace andare sul, non dico… Sul sicuro, no? Non dico sul sicuro, ma devo dire che finora, fino a tutto quello che è stato detto, si è verificato. Su voci che siano, che abbiano una base concreta, poi di noi ce ne sono tanti, io ho qui una lista lunghissima, però è inutile… No, no, è inutile andare oltre. Ci siamo concentrati su quelli che abbiamo capito che erano… Abbiamo fatto questa scelta, assolutamente. Sì, sì, assolutamente. Massimo Gamba, che saluto, riprenderei Luca Moro e Fravo di Rosso dal Sassuolo, poi ancora velocemente… Però Moro credo che… Il Sassuolo non li dà in C, dice Andrea Pappalardo. No, ma non solo, ma probabilmente Moro per la Serie B è un punto importante. Poi Martina Nicolosi, l'Escano è quello più giovane, quello su cui poter fare un progetto più a lungo termine. L'Escano, Facundo Gaveni, anche lui, Andrea Pappalardo gira sulla nostra battuta. Torregrossa è sempre infortunato, ecco cosa ci dice Andrea Pappalardo. ha parlato su Torregrossa, Francesco Sciacca in attacco, ne abbiamo parlato, abbiamo fatto tanti nominativi. Arrivano Merlo e L'Escano, secondo Pappalardo, con Verna come è finita, che problemi ha. Sì, anche lui era in rietletizzazione, quindi dovrebbe essere disponibile a brevissimi. È stato uno dei primi a farsi male durante questa settimana, insieme al portiere. No, superabili, superabili. E diciamo che, come dire, è giusto che si valuti bene adesso anche il quadro clinico di ogni giocatore per avere poi la squadra, il componente della squadra integri ad inizio di campionato, perché l'anno scorso sapete come è andata. Ha avuto momenti terribili. E a riguardo, fa un accenno su questo tema anche Francesco Sciacca che ci dice che non si può fare un ritiro senza l'attaccante titolare, va un po' contro l'incontrotendenza, dicendo che senza l'attaccante titolare per lui il ritiro non è da fare, ma in ogni caso bisogna prepararsi perché giorno 3 incombe una gara nazionale. Sì, è chiaro che, ma questo riguarda tutte le formazioni anche ad altissimo livello, Serie A, Champions League, altri campionati stranieri, non tutto può essere definito al momento dell'avvio della stagione che è a luglio, con una stagione ufficiale che inizia i primi di agosto per poi andare verso il campionato. è chiaro che questo è il punto fermo di ogni allenatore, avere la rosa all'80% completa prima dell'inizio della stagione. Ma Giaco si era basato su un 70%, quindi siamo lì. Ma io sono convinto che ci arriveremo, è chiaro che ci sono i tempi tecnici, il mercato chiude a fine agosto. Velocemente, salvo, Francesco Lippo ci chiede di ricordare gli impegni prima della Carrarese, li diciamo solo a voce perché tu li dovresti avere senza bisogno di vedere la grafica. Non ce li ho. Ah, tu non ce li hai. No, e allora vediamo un attimo la grafica. Vediamo la grafica di nuovo. Vediamo, ci rivandi la grafica sulle amichevoli che aspetta il Catania prima di giorno 3? C'è quella di sabato comunque, subito. Perfetto, eccola qua. Eccola qua, così rispondiamo anche a Francesco Lippo. Granaro, si gioca alle 18, team marchigiano che disputa il campionato regionale di eccellenza e poi mercoledì 31, quasi in chiusura di ritiro stagionale in quella di Assisi, si gioca col Pineto. Perfetto, squadra di livello, quindi squadra importante, amichevole importante. Va bene, abbiamo proprio pochissimi minuti. Salutiamo, ringraziamo con gli ultimi messaggi i nostri amici che ci seguono. Dice Vincenzo Nicolossi, per ora D'Andrea e Cianci bastano, arriveranno altri due attaccanti tra breve e allora senza attaccanti facciamoli tornare a Catania, dice Andrea Pappalardo scherzando sul fatto che non si debba fare il ritiro senza avere l'attaccante titolare. E questo non è possibile, ci stavano D'Andrea, ci gioca sopra. Andrea, però è importante partire sempre da quel punto di vista lì. Ok, i giocatori in entrata, ma bisogna smaltire e sfoltire la ruota. E finora abbiamo fatto ben poco, perché per oggi non ce l'abbiamo il tempo, la vedremo la prossima settimana, la grafica delle uscite al momento piange un po' perché è veramente esigua, molto esigua. Ci arriviamo, il nostro regista ci dà l'assenza, quindi lo ricordiamo velocemente. Averi, ma era fine prestito. Mazzotta, svincolato. Noi, svincolato. Chiarella, in prestito a Rimini. Maffè, in prestito alla Cavese. Bocic, in prestito al Taranto. Contec, ceduto definitivamente alla Casertana. Queste sono le uniche uscite attualmente registrate. Siamo in attesa di verificare le posizioni di Costantino, Rapisarda, Welbeck. Curato, qualcosa accadrà. Qualcosa accadrà sicuramente. Ci siamo, Salvo, siamo in chiusura. Siamo in chiusura. Allora, ringraziamo. Prima di tutto tu ricompagnia il nostro Salvo Ferigno, che come sempre ci propone le sue grafiche, poi ringraziamo naturalmente Gaetano Ligreggi, in redazione anche Filia Stroscio e poi naturalmente il direttore. Per lo spazio che ci concede. Ringraziamo naturalmente chi ci segue in maniera certosina e ci dà anche delle dritte, dei buoni consigli. Assolutamente, una bella puntata oggi. Ringrazio Vincenzo Laconte. Grazie, grazie a te, Salvo, a lunedì prossimo allora. A lunedì prossimo, domani la replica su Sette Gold. Grazie a tutti. Grazie a tutti.